Bologna Inside, cari signori, oggi è sabato e fino al 4, grandissimi eventi in questa piazza maggiore, guardate sono già sedute in fila, avremo stasera un grandissimo spettacolo in diretta con TV Sa 2000, col messaggio di Papa Francesco, cosa volete di più? E poi avremo ricchi spettacoli, tanti artisti che si entreranno in questo palco, tra cui lo zecchino d'oro, quindi signori non potete mancare anche voi bolognesi, da oggi sabato fino al 4, venite in piazza maggiore per i grandi festeggiamenti per San Petronio, Bologna Inside!